è arrivato a trento dimmi una location particolare per presentarti ma anche per farti conoscere la città grazie mille si è un bel posto così è una vedo la città secondo me è una bella città con che ambizioni con che prospettive arrivi questa gloriosa società arrivo molto carico soprattutto perché adesso abbiamo avuto un un stop moto moto lunga che non siamo abituati allora già sono molto contento che cominciamo ad allenare e come ho detto sono carico sono venuto per fare bene e speriamo che facciamo bene con la squadra mi verrebbe da dire che tra l'intero nel tuo destino qui tu hai giocato la tua prima partita da opposto con milano e l'hai anche vinta lo ricordiamo bene sì mi ricordo molto bene la partita perché ovviamente era per me una partita importante dove era un po un po teso ovviamente il ritorno in italia in un altro ruolo ovviamente c'è l'occhi puntato addosso per vedere questa era un palleggio d'oro qui e quella partita è andata molto bene da lì sono partito nel mio nuovo ruolo in italia allora si è molto un bel ricordo e sono contento di giocare adesso per la squadra di trento il tuo biglietto da visita è ottimo negli ultimi anni sei sempre stato il miglior marcatore della superlega i tifosi inevitabilmente ti chiedono di mettere a terra tanti paloni anche qui spero di sì